Ciao, sono Alessandro Marzotto Levi, ci troviamo a Kilowatt Festival, dove sono stato invitato col mio spettacolo Irene, che è dedicato a una persona che non c'è più. Lo spettacolo si sviluppa nella ricerca coreografica di trovare un modo per esplorare il dolore, la mancanza, la perdita e soprattutto anche la connessione con l'invisibile, ciò che non c'è più che però rimane in qualsiasi sua forma. È un assolo, c'è il palco che è sparso di paglia e la ragione per cui ho usato la paglia è perché è un materiale che è arrivato alla fine del suo ciclo e come metafora di qualcosa che appunto muore, che però rimane. È uno spettacolo molto personale, per me molto coinvolgente, è uno spettacolo per il quale mi devo preparare anche a livello psicologico a volte perché mi ci vuole poi un po' a digerire l'esperienza. Non posso non parlare del team meraviglioso che ho avuto, che sono la mia assistente, la compositrice, la persona che ha disegnato le luci, che mi hanno aiutato in questo percorso abbastanza montuoso e sono molto contento di essere qua.